Ma che economia è un'economia che consente la speculazione? Con questa domanda, detta con rabbia, ha iniziato la lezione il professore Enrico Cavalieri. In un'economia caratterizzata dalla speculazione, come si può ritornare ad un'azienda in equilibrio? Il percorso è lunghissimo, l'ho esplicitato durante l'intervento. Per tornare all'azienda in equilibrio, in breve, bisogna cambiare il paradigma della creazione del valore, che non può essere per i soluzionisti, bisogna creare valore per l'azienda e per tutti gli stakeholder e bisogna crearlo in modo responsabile, bisogna crearlo rispettando gli equilibri economico, finanziario e strategico. Il seminario, il ritorno agli equilibri per una gestione responsabile dell'impresa, si è tenuto nell'aula P2 della Facoltà di Economia Università Tor Vergata. I manager come dovrebbero essere? I responsabili anche loro dovrebbero rendersi conto che il loro ruolo non è quello di creare valore per se stessi e per un soggetto, l'azionista di controllo, contro tutti gli altri, a danno di tutti gli altri. Loro vuole essere manager che governano un'organizzazione produttiva che ha come finalità quella di soddisfare i bisogni, i bisogni della collettività, i bisogni della gente che ci lavora, i bisogni dei consumatori, i bisogni dei clienti, i bisogni dei lavoratori, i bisogni di tutti. Perché l'azienda non è una struttura organizzativa per creare ricchezza a pochi e danni agli altri, ma viceversa, è una struttura organizzativa che dovrebbe creare valore per tutti. Infine, che cosa è successo in Grecia? In Grecia probabilmente, cosa è successo esattamente? La matrice esatta della situazione in cui si trova non la conosco. Probabilmente ci sono stati dei dissesti importanti, ma c'è stata anche una grossa speculazione che ha attaccato i titoli greci e quindi lì, in un certo momento, l'esposizione della Grecia a un debito eccessivo ha comportato queste situazioni di crisi del paese. E adesso il Portogallo, che è quello che ha un altro debito forte, sta per essere aggredito dalla speculazione. Quindi è un discorso che si propaga nelle economie più deboli.